hier è un diappolo ciao io ero un diappolo non è che fa parlo io ero mai io ero mai 26 cioè per l'altro fenomeno direi che non è vera la vai in internet, in youtube, in tutto il mondo non arrivo bene con la figura di cercare di cercare di cercare di cercare di cercare di cercare e io mi piace da due ore a col? a col te pen che fauvesci e scopovovo ecceci di sibolo eccoci eccoci ecceci di gamba ecceci ora tu ti scrivi prego E' un'ottima peste. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.